Allora oggi è il 16 aprile 2014, sempre, ah che bella immagine che vi faccio vedere, infatti sono in bicicletta, ho messo il cavallettino e sto andando, come al solito, a farmi un girettino con la bici per vedere se riusciamo a fare qualcosa con il metal detector. Sono le ore se... facciamo le quattro, facciamo le quattro, sono le quattro e dieci, facciamo le quattro. Ciao, un boscato, un boscato, sì, ciao. Ho bucato una stradina, non so neanche dove cavolo mi porta, vediamo. Ok, eccomi, allora, sono sulla piastra, il copripiastra, vada via il più. Dicevo, lo sto provando con coin, cioè monete, con sensibilità a manetta, qui in poi. Vada, non so neanche voi, non so neanche voi. Vada, non so, non so. Vada, non so, non so. Torniamo. questo è un pezzetto di cartuccia il fondo della cartuccia del fucile no chiudiamo la busa no ma che bello se avessi dei fiorellini ce li pianterei che è questo? qualcosa ferraccio ferraccio dopo a casa lo puliamo altro ritrovamento c'è questo pezzetto di ferro che devo vedere cos'è e poi a casa lo guardiamo non credo boom baby perchè non credo boom baby perchè l'italia 20 lire guarda che bello ho trovato un ventino vedi finalmente la mia prima signora la mia prima moneta sono veramente contento guarda quindi moneta trovata non metal a 6 tacche su terreno erboso pronti anche la flora è a posto la flora o la fauna? la flora signori non ci credo un altro cellulare posso mettermi a venderli questo è terreno erboso giurli a 2 4 tacche allora tra i miei ritrovamenti c'è anche questo teschio di cane presumo pezzo di mandibola e secondo me l'ho anche disotterrato perchè qua continuava a suonare così come la in fondo adesso che però coprerò le buche continuava a suonare e secondo me proprio per quello bene che cosa ci sarà mai nella sacca delle meraviglie questo pezzetto di ferro che boh non vada alla pesca non so cosa sia qua una specie di rampino un ramino non lo so un ventilire poi sembra una mania un altro cellulare se voi guardate qui sotto il 20 però è a suonare lo riuscite a vedere? nel 1921 c'è anche lo stemma del re del casato di Savoia guardalo lì se io ribadisco non so se possa valere qualcosa so che ci sono dei valori numismatici ok però se ribadisco cacchio è la mia prima moneta io sono più che contento che che che